eccoci qua signori big luca il più milionario di dubai in questo video che mi ha sollecitato il team ti voglio parlare di come fare soldi online senza aprire un'azienda e te ne parlo dopo la sigla che non c'è allora signori voi alcuni di voi seguono questo canale perché vogliono fare più soldi e io penso di essere la persona giusta per insegnarvelo anche perché sono il più milionario di dubai anche lì ragazzi capisco di a fastidio però non è colpa mia quindi da statistica ufficiale chiamate il governo chiedete ma è vero che big luca e vi diranno no dopo avervi parlato in arabo per 20 minuti sono più milionario di dubai lo dicono proprio nella lingua locale allora come fare soldi senza avere un'azienda il web è invaso e adesso dobbiamo ritornare a bastonarli anche lì ragazzi continuate a scrivere all'ufficio l'ufficio me lo significa che continuate a lamentarvi che c'è gente che dice delle cose sui metodi di guadagno le cianfrusaglie le piattaforme come il bitcoin però non possiamo noi intervenire e azzopparli possiamo fare un lavoro che facciamo da anni di contro educazione però non è non è colpa mia se le persone si improvvisano formatori vivendo metodi di guadagno assurdi che poi non funzionano sono una truffa non sono sostenibili o a un certo punto vi rendete conto di aver speso un sacco di soldi non ne avete guadagnati cioè noi ci occupiamo di altro io sono il consulente di online marketing più pagato in europa e uno dei più pagati al mondo lavora ad altissimo profilo o la big luca international con i corsi e online marketing permette che ha sono corsi assurdi abbiamo a livello di risultati e il motivo per cui ci guardate però questo non vuol dire che possiamo dire tizio bam non parla più ok quindi e non smetteranno di vendervi cavolate noi possiamo insegnarvi le cose che funzionano però inutile scrivere delle mail dice voi dovreste intervenire lo sappiamo sono dei difficili però e sono anni che ve lo diciamo bene fatta questa giusta premessa sullo stato peraltro vabbè parliamo prima della skill perché sennò poi ogni volta rantolo e perdo il focus allora la ski quindi ci sono tutta una serie di gran parte sono truffe ragazzi di piattaformunco le cineserie cosine eccetera eccetera quindi voi volete fare i soldi si può fare soldi senza aprire un'azienda la risposta è assolutamente sì ora passiamo in rassegna alcune cose qual è il problema è che ad oggi per guadagnare e i soldi si fanno con gli affari cioè i soldi si fanno con un'azienda che crea valore per il mercato qual è l'unica eccezione a questa cosa qua è la vendita telefonica d'assalto anche questa non per essere auto celebrativi ma secondo me nel giusto a volte tirarsi perché non sentiamo il bisogno di essere né falsamente modesti verso cose che abbiamo industria che abbiamo inventato noi verso e né falsamente bonisti verso persone che la rovinano e quindi la vendita telefonica d'assalto è una cosa che abbiamo portato noi nel mercato di lingua italiana abbiamo inventato noi come big luca international abbiamo adesso la marketplace dove la domanda incontra l'offerta abbiamo una serie di corsi di canali youtube abbiamo una branch dedicata vendita telefonica d'assalto il nostro CEO della big luca international luca cicchinelli si occupa attivamente di questa branch la vendita telefonica d'assalto perché è interessante perché è ad oggi io penso l'unica skill che valga la pena veramente imparare ci sono alcuni punti provate a pensarci che è un venditore telefonico d'assalto è una persona che collabora con un'azienda può essere la big luca international e vende i prodotti e servizi di questa azienda al telefono ora immediatamente è normale la reazione noi già telefonate a freddo call center no andate a informarvi proprio quello che abbiamo teorizzato e portato a mercato peraltro senza falsa modestia non abbiamo nulla da invidiare neanche nel mercato americano a livello di ciò che è stato creato con vendita telefonica d'assalto avete avuto l'esclusiva in lingua italiana l'abilità di saper vendere attraverso tecniche strategie attraverso un uso della psicologia un un'abilità di saper leggere la personalità del proprio interlocutore che viene dall'esperienza di 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 decine e centinaia di milioni di di dollari di prodotti e servizi venduti di esperienza nostra su cui i corsi nostri di vendita telefonica sono basati cosa implica questa cosa innanzitutto il fatto che voi non dovete scoprirvi economicamente cioè se voi fate il venditore d'assalto per un'azienda non avete le spese che avrebbe quell'azienda che ha che quell'azienda nell'ottenere i clienti potenziali e nel vendere i prodotti e servizi cioè è bello guardare big lucca dirà perché tu sei ricco cioè sì bello però è difficile nonostante quello che qualche cretino possa pensare avere una una azienda di informazioni e soprattutto ad oggi una cosa è un'azienda ragazzi difficile ci sono delle big lucca international questo mese paga i propri collaboratori 220 mila euro paga di di stipendi mettiamola così così almeno ci capiamo duecento e venti mila euro è una c'è un'entità cioè ci sono c'è un team ci sono dei reparti reparto copy reparto media buying marketing il reparto di rottura adesso c'è una branch ci sono delle rotture di scatole ci sono degli aspetti legali ci sono degli aspetti cross border oltretutto nel nostro caso e poi nel mio caso io adesso lavoro personalmente solo con pochissime persone ormai le mie parcelle hanno raggiunto dei prezzi apposta così che almeno io possa dedicare il mio tempo solo one on one qua dubai per la maggior parte a pochi e selezionati no studenti e però sia l'azienda che che io personalmente abbiamo anche un aggravante nel nostro caso che noi dobbiamo non solo vendervi le cose guadagnare noi ma far guadagnare anche voi altrimenti chiaramente non ci sarebbe più il valore di mercato quindi abbiamo non solo dobbiamo essere bravi a insegnarvi delle cose ma queste cose devono darvi anche poi dei risultati in modo da ottenere le testimonianze da crescere sempre la nostra reputazione quindi mentre c'è chi può permettersi il lusso di vendere magari informazioni che non funzionano che non vogliono dire niente e sono fini a se stesse noi abbiamo quello che viene definito un tail una coda una dietrologia di ciò che vendiamo quindi dobbiamo avere i nostri risultati e i risultati delle persone a cui vendiamo quindi abbiamo la vita complicata ma questi sono problemi nostri un venditore che collabora con la big luca non partecipa ovviamente alle spese aziendali al casino si poggia su un'azienda stabile strutturata per aumentare il fatturato e speriamo poi questo dipende dall'azienda il margine netto vendendo i prodotti di servizi quindi è ad oggi non avete spese per fare venditori telefonici e ovviamente dovete poggiarvi a un'azienda che non vi dà dei leads a freddo non vi dà dei nominativi da chiamare a freddo ma che ha saputo creare tramite magari il corso online marketing per mentecati 2.0 un ecosistema di online marketing il termine ecosistema ragazzi anche lì non potete pretendere che non lo copino non lo quindi ha perso un po di potenza e di significato per il semplice motivo che sarebbe tanto bello se i vari fufaroli la piantassero di utilizzare termini che non capiscono solo per vendere il corsettino la cosa mi sento già che mi devo fare una doccia tanto sono viscidi però il termine ecosistema esiste ok spetta all'azienda fornire ai venditori dei leads profilati ovviamente ma il chiamare queste persone intavolare instaurare un rapporto e vendere dei pacchetti magari high ticket è ad oggi una delle opportunità diciamo di guadagno di lavoro di high income skill che esista io non penso ci sia un'altra skill forse ecco il public speaking mi viene in mente potrebbe essere un altro ottimo esempio però minore primo adesso vabbè col covid è abbastanza problematico però si ha meno leverage nel senso che il public speaker è pagato e può performare a spot solo quando sale sul palco è una cosa ovviamente può essere molto profittevole e in termini di vendita dal palco in termini di mi pagano per parlare sul palco quindi questo è un altro esempio vendita telefonica si può fare da casa si può guadagnare veramente molto bene si parla di 10 20 30 mila anche di più al mese i miei venditori fanno a volte decine di euro di dollari netti al mese questo è importante il guadagno e questo non è compreso se si collaborate con le aziende fate i venditori o fate qualcosa ascoltate il fatto che voi non partecipiate al si chiama al rischio imprenditoriale e che quindi a voi vada una royalty poi la possiamo definire una percentuale una una parte di quello che voi generate è fortissimo come concetto perché voi partecipate a quelli che vengono definiti gli upside cioè i vantaggi ma non avete gli svantaggi e cioè se il prossimo mese la big luca international è in perdita io comunque pago le commissioni sul fatturato ai nostri venditori i loro guadagnano comunque quindi hanno un guadagno ma non una perdita parliamone non so se avete inteso provate a pensarci perché ci sono altre cose che potete fare guidando traffico vendendo prodotti di altri o vendendo molte volte prodotti di altre truffe ma lasciamo perdere e potete ovviamente fare un info business noi abbiamo studenti che vendono di tutto che hanno aziende in qualunque campo ma l'impresa chiaramente un rischio si fanno anche molti più soldi ma si possono anche perci e ci si può spaccare la faccia facendo il venditore telefonico si ha un guadagno ma non si ha una perdita è possibile farlo da qualunque parte del mondo è possibile con una chiamata guadagnare moltissimo quindi c'è anche un leverage e a mio parere non so se sto rispondendo alla domanda che mi ha dato poi mi sono pensavo avessi guadagnato c'era una notifica di paypal invece abbiamo una notifica in uscita ci sono anche quelle esatto quindi senza aprire un'azienda diceva diceva il nostro nostro Diego il nostro guru di di della componente youtube della big luca e io non credo non mi sto pensando mi vedete magari un attimo pensieroso perché sto pensando a quali altre opportunità ci possono essere di guadagno senza rischio ora detta così ovviamente sembra una trova guadagno senza rischio provate a pensarci cioè se voi collaborate con la big luca al massimo non vendete niente ovviamente poi venite cacciati quindi il rischio di essere cacciati da un'azienda non lo so noi abbiamo un rischio per esempio perché se tu vieni a lavorare con noi come venditore noi ti passiamo dei contatti profilati caldi quindi non è un call center tu li chiami e potevano essere buoni ma tu che sei stupido li tratti male li chiami li insulti salve lei è un coglione metti giù questo dice ma la big luca che perché mi chiamano insultandomi non compro più niente noi registriamo un danno ma tu no quindi noi abbiamo un rischio ma tu che collabori con noi no quindi è molto difficile fare un caso pensare un esempio contro la vendita telefonica quindi ad oggi e per molto tempo il covid ha aiutato questa cosa qua era già una skill richiesta sono successe principalmente due cose primo il declino dei business online basati su fonti di traffico come facebook la l'educazione che facciamo noi il training che facciamo noi in lingua italiana comincia a germogliare parecchio quindi adesso la competizione e l'offerta da parte di certi servizi mi viene in mente il reparto corsi infomarketing eccetera e certe cose adesso cominciano a essere molto presenti alla vista dei clienti potenziali bisogna essere veramente bravi e non è più come prima che era molto facile vendere informati a chiunque e sua nonna vendeva corsi a mille euro adesso diventa un po difficile quindi c'è innanzitutto il fatto che il mercato è diventato più complesso e il covid ha fatto capire che si può lavorare da remoto mercato complesso servono i venditori perché con le email automatiche ragazzi non si vende praticamente più niente anche gli ultimi dei nostri studenti che erano quelli no ma noi facciamo le robe automatiche vendiamo perché vendiamo a basso venditori telefonici tutti e il fatto che sia una skill richiestissima e che molte persone vogliano lavorare da casa crea una domanda per la vendita telefonica ovviamente molto alta ecco vendita telefonica vorrei un attimo fare uno spaccato su questa cosa qua quindi come si guadagna senza un'azienda bisogna trovare una skill che possa servire a un'azienda ovviamente da qualche parte un'azienda c'è questo lo vorrei chiarire non è che voi potete a chi telefonate un'azienda richiede la figura della vendita telefonica d'assalto quindi da qualche parte un'azienda c'è semplicemente non deve essere la vostra che è tanta roba la vendita telefonica ovviamente noi abbiamo teorizzato e buttato fuori dei corsi che sono veramente veramente abbiamo inventato noi questa questa abbiamo oltre ad avere essenzialmente inventato l'industria dell'online marketing in lingua italiana abbiamo anche inventato la professione del venditore telefonico d'assalto cosa della quale noi siamo veramente molto orgogliosi e tanto da crearne una branch apposita abbiamo adesso una cosa che si chiama vita work una piattaforma dove le aziende possono inserire i loro annunci cercano i venditori i venditori possono proporsi a queste aziende quindi abbiamo anche creato le certificazioni perché ovviamente molte persone prendono il corso io ho fatto il corso della big look a vendita telefonica d'assalto invece adesso abbiamo inserito le certificazioni per quantomeno aggiungere uno step in termini di qualità al processo di apprendimento di questa di questa materia di questo di questa professione le aziende possono vedere su questa piattaforma quante ore di contenuto le persone gli studenti hanno consumato se sono certificati o no il loro livello di formazione le aziende si propongono e c'è un video di presentazione da parte dei venditori eccetera eccetera non possiamo anche lì riceve no l'ufficio feedback impedire entro certi limiti ovviamente perché alcune cose sono ovviamente proprietarie ma non possiamo impedire che qualcuno ci copie che per guadagnare 100 euro non lancino anche loro dei corsi sulla vendita telefonica d'assalto non dicano la parola e vendita telefonica d'assalto ogni due secondi voi chiaramente vi dovete rifare all'azienda di riferimento che ha risultati provati e certi guardate tutti i video la vendita telefonica non so quanti 100 video di riferimento ormai è lo standard ripeto soprattutto nel campo delle informazioni dovete aver fatto vendita telefonica d'assalto abbiamo è stato creato dal nostro sì un altro un altro corso che si chiama vita expert con delle lezioni molto avanzate e anche con tutta una serie di altre e altre cose come proporsi a certi tipi di aziende per esempio ad aziende di alto profilo magari ad aziende quotate visto che alcuni di voi si sono rivolti a un'azienda quotata con un linguaggio non consono ma hanno ragione loro dovete stare attenti quindi dovete stare attenti a chi vi rivolgete ok come sempre vorrevo io in ogni video dovrei ricordarla questa cosa il fatto che ci siano questo vale per tu non per la vendita telefonica vale per tutto spiante piantatevelo bene in testa perché ci sono tantissime persone ovviamente che tentano di sfruttare l'effetto scia nella big luca international e soprattutto di big luca di me personalmente quindi ci sono intere persone e definiamoli business giusto per fargli un favore che si reggono sull'avere una foto con big luca di essere stati a cena con big luca di essere stati all'evento di big luca di aver comprato i corsi di big luca eccetera eccetera alcuni no hanno avuto una relazione magari più percepita come personale e la big luca international non garantisce per nessuno delle persone che sono state associate o che si associano che nella loro testa sono associate la big luca international consulting stessa se voi vedete una foto di big luca con qualcuno io non sto asserendo o dicendo in modo implicito vi potete fidare di questa persona questo lo dico perché purtroppo ci sono persone ad ogni livello devo dire che ci marciano con queste cose avevi ero con big luca siamo amici da noi non sono amico assolutamente io non ho amici fate conto che io non ho amici gli amici che ho non sono persone che vedreste quindi posso dire non ho amici in tal senso chiunque sfrutti la mia immagine il logo della big luca international anche il fatto che abbiano fatto i corsi noi vendiamo formazione fate i corsi la certificazione abbiamo inserito per venita telefonica uno step in più ma comunque non garantiamo e non è una garanzia che hanno studiato e hanno fatto il corso sanno le tecniche le strategie del corso poi dopodiché se sono dei truffatori ciarlatani e vi rubano e vi scopano la moglie io non centro ok quindi questa è una cosa che desideravo dire e togliermi questo dovrei dirlo a ogni video perché ripeto ci sono interi e business di ciarlatani vari che sono retti sul fatto di avere delle foto con me dei video con me di dire che mi conosco di dire che so dove abito donna faceva in un tempo passato network marketing mi pervengono ancora ad oggi notizie di persone che reclutano dicendo ma sai che la donna di big fan network marketing molto chip molto schifoso molto schifido non ci possiamo fare niente però non posso uscire con la clava cioè capite qui così quindi questa è la high income skill che io vi consiglio assolutamente di guardare e per gli imprenditori dovete capire come impostare un ecosistema di online ma ragazzi seriamente adesso le cose sono serie e avere un team telefonico chi non ha il team telefonico non sta andando assolutamente da nessuna parte si estinguerà investite nel programma online marketing per mentecati 2.0 entrate nella membership andate a vedere il canale youtube mi risulta che ci siano dei canali social della branch vendita telefonica d'assalto studiate questa cosa con estrema attenzione e dal lato imprenditore e dal lato cerco un'opportunità di guadagnare ecco sulle opportunità io lo so che la stomina però purtroppo non è colpa mi c'è il termine opportunità di guadagno è giusto che vi faccia rizzare i peli del culo cioè avete ragione voi è torto io però purtroppo che perché è usato per qualunque cosa qualunque truffa è un'opportunità di guadagno capito che l'opportunità di guadagno ma state truffando e questa è vendita telefonica quindi voi imparando queste tecniche queste strategie andrete a lavorare per delle aziende reali c'è la big look esiste non è una roba che sono io che faccio c'è un team ha fatto degli eventi se appunto i riferimenti della formazione dei risultati eccezionali ok esiste magari non vi piace la formazione potete lavorare per un'azienda che vende prodotti fisici materassi e oppure per dottori chiropratici o studi abbiamo tantissimi studenti dal campo dei professionisti ma e vendete i loro servizi magari appunto vendetele delle sessioni di consulenza rispetto dei prodotti fisici rispetto a del cibo ci sono dei ristoranti che applica i nostri metodi marginano un sacco vendono un sacco di roba e lo fate al telefono lo potete fare da casa come siete dei professionisti della vendita che che gestiscono il database clienti di l'azienda e capiscono come fare upsell cross sell mantengono le relazioni finalizzate ovviamente alla vendita quindi io vi consiglio di andare a vedere questi materiali queste cose io sono big look è il più milionario di dubai in assoluto arrivederci arrivederci arrivederci